Amici di Volonright, siamo qua con Francesca e Fabrizia di Forma e Materia e volevamo chiedervi di presentare un po' Forma e Materia. Forma e Materia è un laboratorio del Comune di Torino che nasce nel 1995 dall'idea di una collega educatrice, Luisa Boscolo. Luisa è un'educatrice che ha lavorato tantissimo nei CST, nei luoghi dove già c'erano i ragazzi e a un certo punto ha fatto un percorso individuale sull'oreficeria e ha capito che si poteva applicare quest'arte usando i disegni dei ragazzi proprio. Ed è stata una formula vincente, aveva ragione, ha rischiato perché abbiamo messo in mano ragazzi disabili lievi, trapani, seghe, lime e fuoco, per cui anche pericoloso poteva essere. Invece è stata una scelta vincente e i nostri prodotti che sono esposti qui ora dimostrano che aveva ragione Luisa Boscolo. Quindi siete soddisfatte dello spazio che vi hanno dedicato qua alla mostra? Beh certo, siamo in mezzo ad una stanza meravigliosa. Sì sì, è stato un bel lavoro, un lavoro interessante perché usando i disegni degli allievi sia di Torino che di Colonia abbiamo tirato fuori particolari interessanti. I nostri allievi si sono molto divertiti e quindi ci è piaciuto da rifare, infatti ci siamo già messi un po' d'accordo con le colleghe di Colonia di mandare avanti e indietro disegni e opere in ceramica, perché abbiamo fatto anche le ceramiche, oppure in metallo. L'ultima domanda riguarda un po' la presentazione di forma e materia nei vostri biglietti da visita e così via. Sono presenti due parole che sono creatività e alta qualità. Come coniugate questi due termini nel pratico? Allora, la creatività innanzitutto nasce dal disegno del ragazzo. Ogni ragazzo ha il suo disegno, ha la sua impronta che lo trasferisce sul metallo. Per cui noi possiamo dare degli input, dare delle idee, ma poi quello che viene riprodotto sul metallo è il disegno del ragazzo, della persona che produce. L'alta qualità viene nella rifinitura, nella scelta dei pezzi, nel lavoro adeguato, fatto bene, rifinito bene. È una cosa su cui a volte li aiutiamo con noi, ma cerchiamo di spingerli sempre oltre e di insegnarli il più possibile a realizzare completamente il monile da soli. Quindi l'alta qualità è un prodotto ben rifinito. Grazie.